Il primo passo verso lo scudetto è della cucina Lube-Bancamarche. Dopo oltre due ore di partita, i cucinieri rimontano lo svantaggio di 2-7-1, battendo la Sir Safeti Perugia nel tie-break. Macerata conferma così l'imbattibilità stagionale davanti ai propri tifosi, ma abbiamo chiesto a Hubert e No se lo svantaggio iniziale potesse essere stato la conseguenza di 10 giorni di inattività. No, ma ci sono tante spiegazioni, c'è anche l'avversario che ha giocato bene, quindi tanto in play-off bisogna solo vincere, non è che bisogna fare 3-0 e tutte queste cose bisogna vincere. Oggi abbiamo vinto, siamo a 1-0 e ci riparte dal capo per noi domenica. Bella partita dunque, da un punto di vista del gioco, ma anche per quanto riguarda il carattere e la grinta. Sì, da quest'inizio di play-off stiamo giocando veramente in maniera diversa rispetto a, diciamo, parlo soprattutto mentalmente in questa stagione. Siamo entrati in questi play-off, diciamo, con una grande decisione. Adesso sta pagando, però è vero che Perugia è un avversario molto temibile. Il risultato che conta in questi play-off, portare a casa la prima partita, è stata una grande soddisfazione soprattutto perché è arrivata in rimonta e abbiamo ritrovato partita facendo il gusto di giocare e il livello di gioco che tutti si aspettano da noi e quindi sono molto appunto contento e con la testa già domenica in casa loro. Soddisfatto anche coach Giuliani per l'impresa sostenuta dai suoi ragazzi. Beh, lo meritavamo la squadra, lo meritavamo tutti e il pubblico ci ha aiutato. È partito un po' piano come noi stasera. Noi siamo partiti un pochettino col freno a mano tirato. Forse la pausa lunga è un bene per certe cose e un male per il ritmo di gioco, però noi siamo usciti bene, siamo usciti con dei numeri molto alti, a muro soprattutto e anche in cambio palla. Quindi sono molto contento della reazione della squadra a un momento di difficoltà. Ora la Lube dovrà mantenere il risultato anche domenica 27 a Perugia per la gara 2. Una partita come questa, una partita lottata, giocata sui dettagli, stavolta nasconderemo bene le nostre tattiche. Grazie.